chi sta seguendo in televisione avrà visto che non sono più solo l'avevamo preannunciato io sono molto contento Gigi D'Alessio con noi eccomi qua, buongiorno a tutti buongiorno Gigi come stai? bene bene tutto bene? tutto bene dopo questo tour mondiale finalmente nella tua Napoli ma naturalmente una Napoli che tu ami particolarmente noi siamo a Radiogol, parliamo di calcio e io so quanto tu sei tifoso del Napoli certo, in tutto questo tour che abbiamo fatto in Europa pure a Mosca ho trovato sempre la Dana giusto per andare a via comunque vedevi la partita un tour entusiasmante indubbiamente molto stancante ma anche molto gratificante questo Malaterra che porta dai il nome all'album e poi neanche un tour ecco ti faccio una domanda calcistica poi cominciamo con la musica ma tu che segui tutte le partite questo Sarri ha cambiato tutta la squadra ha cambiato la testa dei calciatori perché è difficile essere facili lui è una persona che è molto vicina alla gente cioè chi lo vede dice questo è come me è uno come te è un normal one è un normal people è un normal people e poi è uno umile, uno sereno sarà anche che è nato a Bagnoli forse ma al di là di dove è nato si vede proprio che è una persona che comunque i calciatori o sono bravi o non sono bravi giusto? lui forse evidentemente li ha messi a proprio agio ha creato lo spogliatoio giusto e devo dire la verità lui pensa a lavorare non pensa a essere fu sciamba, tintura, giacca, cravatta no lui va in tuta lui va in tuta io la prima volta sembravo un garacista quando l'ho visto sai quando vai in un garage vai a posare la macchina chi sei un garacista? invece devo dire la verità è una persona è straordinaria è una persona meravigliosa io non lo conosco però a me era una grande fiducia e poi questo Napoli ce ne c'è voglio dire quando dovevamo subire abbiamo subito in silenzio abbiamo sofferto adesso io credo che il Napoli spazio e poi vengono tutte le squadre ma dimmi una cosa Gigi sei scaramantico tu si può pronunciare la parola non la possiamo pronunciare io non dico vincere guarda al di là di vincere è una squadra che fa paura è una squadra che fa paura quello che vinceremo vinceremo non ha importanza l'importanza è camminare a testa alta ok? noi possiamo oggi camminare a testa alta e quando il Napoli quando la città ha una squadra bella come questa è tutta la città contenta sembra anche vuol dire salumiere mi sembra che vende più pane il meccanico aggiusta più macchine l'idraulico perché siamo tutti più allegri siamo tutti perché la squadra qui non è una squadra la città la città è nostra madre è la squadra e sono i nostri fratelli non è un fatto calcistico è proprio sentiamo veramente dolore no ma non c'è dubbio senti ma a proposito di quello che accade alla squadra accade tu da napoletano lo sai il Napoli va a Verona i soliti cori idioti beceri poi c'è una giustizia succede pure a me succede pure a me però che dobbiamo fare? ci fanno i cori ci fanno i cori l'importante è fare i fatti come dico io vabbè ok dici quello che vuoi ma io esisto ah certo ma io posso dirti che sono proprio contento e tu sei qui oggi lo so lo so tu particolarmente contento io sono particolarmente contento e tra l'altro devo dire anche motivo d'orgoglio per me per Chis Chis Napoli avere Gigi che ieri ha polverizzato gli ascolti a porta a porta con Bruno Vespa che poi la canzone napoletana Gigi la sta esportando nel mondo fino a poco tempo fa era difficile addirittura io quando feci non dirgli mai parlo del 2000 le radio mi dicevano sai ma c'è quella parola si stasera da Vespa quindi non possiamo trasmetterla incredibile oggi quando sento le mie canzoni cioè le canzoni sia inedite che quelle classiche rivisitate con i vari duetti che fanno parte di questo album sui network nazionali per me è una rivincita è una bella è la tua vittoria è la mia vittoria è una vittoria vinta però non so se mi puoi spiegare ma io io so bene quello che giustamente Gigi D'Alessio magari ha provato lui a Sanremo ragazzi il napoletano è una lingua esatto cioè non è un dialetto come qualcuno vuol far pensare ma all'altronde è il grasso tutte le volte che partiamo per raggiungere il continente no? perché da Napoli si parte tutti gli emigranti sono napoletani il sud la maggior parte quando si parte da Napoli sappi che si parte a meno 20 cioè non è che partiamo uguali come tutti ecco quando poi riusciamo ad arrivare in un posto i nostri pilastri la nostra bandiera per noi è sempre più difficile per emergere è difficile però se se riusciamo a valicare tutti i preconcetti tutti i pregiudizi eccetera eccetera quella bandiera nemmeno il più grande di un ragano può buttare pensate io conosco Gigi da 25 anni ne ho 26 è vero è vero e non solo ma devo dire in questi 25 anni la nostra amicizia è sempre stata uguale da 25 anni fa oggi lui insomma Gigi è un'icona di più no ma è così io sono un figlio di questa città ed è bello che canta potevo essere un figlio di questa città che fa l'idraulico potevo fare l'ingegnere l'avvocato il fruttivendolo è dille che muovo bene è dille che muovo bene come io voglio bene a te ieri sera davvero successo straordinario a porta a porta pensate Bruno Vespa gli ha dedicato tutta la puntata noi tra poco però cominciamo a entrare nel vivo della musica anche oggi ho fatto porta a porta anche sono da un'ora in questo palazzo ma ci devo fare tutti i porti tutte le nostre radio porta a porta ancora porta a porta ancora porta a porta facciamo così ascoltiamo le ultime notizie dall'Italia e dal mondo poi di notizie ne parleremo perché Gigi D'Alessio mi ha confidato una cosa lui ha girato tutte le grandi capitali europee pensate lo possiamo dire dovevi fare un concerto al Bataclan fortunatamente abbiamo venduto più biglietti e quindi è stato cambiato l'abbiamo spostato alla Sigal e l'abbiamo spostato di 5 giorni allora facciamo così tra poco dopo le news una prima canzone di Malaterra tratto da Malaterra poi parleremo del disco del docufilm di un'iniziativa straordinaria che Gigi ha voluto legare alla terra dei fuochi abbiamo tante cose da vivere e poi gli facciamo anche qualche sorpresa Radio Gol Radio Gol Radio Gol Gigi D'Alessio nei nostri studi ben trovato Gigi tu mi hai ingrippato con questa canzone è bellissimo tutte le mattine io sotto la doccia la canto segno che ti metti buon auguri esatto beh di buon umore bravo bravo buon auguri senti Gigi quanto è bello quanto è gratificante quanto ti ripaga andare a Parigi fare tutto esaurito andare a Mosca teatro strapieno ed esportare la nostra musica quanto è bello quella è quasi una missione poi quando tu prepari tutto prepari un disco prepari un tour cominci ad uscire con la pubblicità vai a fare promozione poi lì è la prova del nuovo perché se la gente viene vuol dire che è andata bene è certo se la gente non viene vuol dire che è andata male e allora in questo caso io è come avessi portato due cantanti in tour perché uno è quello italiano e l'altro è quello napoletano e la cosa bella che sono piaciuti tutti e due cioè io ho finito il concerto a Mosca te lo giuro la gente i russi sono veramente proprio persone che stanno sedute educati cioè non fanno alla fine questi hanno fatto l'invasione di Palc non l'invasione di Campo ma hanno fatto l'invasione di Palc e per me è stata una soddisfazione stare lì a fare gli autografi ma soprattutto tu lo sai che ho sentito cantare il russo ma davvero davvero ed è una canzone di successo lì vedi il nostro patrimonio che abbiamo un patrimonio enorme tra l'altro poi ripartirà a gennaio il tour e sarai davvero in tutto il mondo Gigi ho bisogno di 80 secondi per i nostri spot premium poi torniamo con Gigi D'Alessio perché dobbiamo parlare ancora di calcio dobbiamo parlare della nostra città della sua musica e delle iniziative straordinarie anche che tu hai voluto fare di beneficenza per la terra dei fuochi perché poi la grandezza di Gigi è questa portare Napoli nel mondo e poi però ricordare la sua terra perché lui è napoletano tutto quello che farò per questa terra per questa città sarà sempre poco perché quello che ho ricevuto da questa gente è enorme è enorme e come dimenticare le emozioni di un San Paolo strapieno ricordo quando Gigi fece il primo concerto al San Paolo una persona mi disse no ma D'Alessio vedrai non andrà nessuno io gli dissi vedrai che fa il tutto esaurito porterà i pantolini guandaloncini e i scarpetti quel concerto è la cosa che ricordo con più affetto qual era qual è stata qual è stata che mi sono andata a incollare io i manifesti e io me lo ricordo bene con il secchio e con la colla e io me lo ricordo fin troppo bene mi ricordo Mario Savino che mi disse Valterino ci devi dare una mano perché sfondiamo tutto io dissi sono sicuro che riempio il San Paolo quanti anni sono passati Gigi? sono passati del 96 96 no 97 97 sono passati 18 anni 97 comunque ti volevo dire che speriamo di riempirlo anche il prossimo 21 giugno assolutamente perché ho visto che tutto il tour Malaterra in tour dopo aver girato tutto il mondo chiude a Napoli il 21 giugno porterò tutti i trofei che ho ricevuto in Europa che riceverò nel mondo tutti questi trofei li porterò nella mia città Melbourne Tokyo Shanghai Dubai insomma tutto il mondo Miami Rio de Janeiro San Paolo ma vai pure a Brasile vai pure a Brasile va che a Rio de Giampiero e allora vengo pure io a Rio de Giampiero vengo pure io in Brasile e poi quando torniamo al San Paolo il 21 giugno 21 giugno per festeggiare il mio nomastico la festa della musica ma soprattutto questa grande città e allora facciamo così 80 secondi e torniamo con Gigi D'Alessio eccoci qua ben trovati ancora buon pomeriggio a Gigi D'Alessio eccomi che bello Gigi D'Alessio nei nostri studi oggi tra l'altro Gigi ha una bellissima amicizia con Insigne noi l'abbiamo chiamata Bruges e lui a pranzo con la squadra e con Sarri però ci teneva ti ha mandato un grande abbraccio in bocca al lupo e un Forza Napoli perché Lorenzo che è napoletano come noi coglie che questa città Gigi ha bisogno di stare insieme e tu sei allora la grandezza di Gigi D'Alessio ragazzi è che Gigi che ha un successo straordinario ma non solo in Italia nel mondo perché adesso non è che io gli devo fare delle sviolinate però non tutti hanno una serata interamente dedicata da Bruno Vespa porta a porta cioè è una cosa enorme la grandezza di Gigi che quando ha avuto successo ha sempre tentato provato e alimentato i talenti della città per esempio nel tuo disco c'è un duetto con Valentina Stella Valentina Stella credo che sia una delle più belle voci che abbiamo a Napoli insomma Valentina pensa che io suonavo ai matrimoni e lei veniva a cantare aveva dieci anni Valentina ce la cantava Valentina è strepitosa poi sai ci sono artisti che tu quando li senti cantare vedi anche il film davanti agli occhi per me quando canta Valentina io vedo i vicoli vedo mia madre che spanne i panni capite vedo sento quegli odori sento l'odore della pizza fritta Valentina è verace Valentina è bello sento l'odore della pizza fritta che bellissima e Gigi ho capito vogliamo fare una cosa lasciamo Lucio Peng no 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 rispetto per il pubblico brah assolutamente e tornando a Malaterra dove nasce poi l'idea di un tour mondiale e non solo un disco un docufilm Malaterra perché è evidente che la nostra terra martoriata la terra dei fuochi tu però dici attenzione la nostra terra tutto è nato l'anno scorso anzi in effetti è nato due anni fa perché io sono sotto Natale sono stato a Napoli e avevo visto una città spenta io ho chiamato il sindaco l'anno prossimo era purtroppo il 26-27 dicembre era troppo tardi io voglio organizzare il capodanno in piazza plebiscita io sono andato a Canale 5 ho parlato con i dirigenti e ho organizzato ho fatto tutto io cioè perché volevo vedere la mia città sorridere e da quel momento ho detto ma perché Napoli secondo me è la più bella ma veramente la più bella città e te lo dici uno che l'ha girato il mondo io non l'ho girato come tema a prescindere è la città più bella del mondo capite quando vedi che il mare cioè il mare Omar casa vasa con Napoli capite no ma Gigi con me figurati capite è proprio un bacio cioè l'onero Omar quando si vasa con Napoli che è un'immagine straordinaria ho caso rientro e pusillego con due braccia da stregnare no che le vedi così quindi di che vogliamo parlare allora ho detto no e poi sono entrato più nello specifico a terra di fuoco perché non dare un piccolo aiuto comunque ti voglio dire una cosa io ho cominciato a riparlarne da Capodanno ci sono persone prima di me come Don Patriciello le mamme tipo Anna Magri che stanno lottando e lottano ancora tutti i giorni e comunque io ho unito a questo coro la mia voce non per cantare per urlare e comunque qualcosa si è mosso perché comunque i 450 milioni di euro arriveranno dal governo De Luca ha un ottimo rapporto tra l'altro incontro in questi giorni abbiamo i dati importanti che ci fanno capire che i nostri prodotti sono i migliori prodotti al mondo proprio in virtù di questa dalla disgrazia dalla disgrazia abbiamo capito che i nostri prodotti proprio perché sono iper controllati ti devo raccontare una cosa sono tutti quindi io ho portato in giro la parte tu hai fatto bene voglio portare dobbiamo parlare bene di questa terra perché si parla solo quando ci stanno omicidi quando ci stanno un caso la notizia a Napoli il calcio a Napoli la squadra va alla grande cominciamo ad essere più fieri e orgogliosi di essere napoletani prima napoletani e dopo italiani no ma la cosa che diceva D'Alessio è una cosa molto importante De Luca è andato all'Expo per presentare i dati sui nostri prodotti così è come se questa cosa fosse passata inosservata cioè quando si deve parlare di terra e i fuochi ci fanno le trasmissioni intere quando invece la nostra regione i nostri prodotti così allora io in ogni città che sono stato in ogni capitale europea sono stato al consolato agli istituti di cultura a far vedere il docufilm ho fatto le interviste ho fatto incontrare gli imprenditori perché è quella la mia missione bravo e poi il giorno dopo facevo il concerto allora ci fermiamo solo due minuti torniamo ancora con un estratto dall'album di Gigi D'Alessio ma la terra mettiamo proprio quello con Valentina a questo punto vogliamo provare perché non abbiamo il video per la televisione solo per qui lo facciamo io ragazzi mettete quello che volete voi tanto basta che suona D'Alessio io sono contento pubblicità ben trovati ben trovati beh una puntata speciale di Radio Colle perché nei nostri studi c'è Gigi D'Alessio ancora buon pomeriggio grazie grazie senti parlavamo del disco ma parliamo anche della tournée perché è proprio bello già ipotizzare che dopo la tournée europea a gennaio a fine gennaio tu ripartirai e riparti per esempio da Tokyo sì che emozione riceve Gigi D'Alessio a Tokyo poi a Shanghai a Dubai poi tornerai in Italia io prima ricordavo tu andrai a Los Angeles a Chicago che emozione guardi ci sono città che ho già fatto tipo Melbourne Sydney per esempio Tokyo Shanghai è la prima volta è la prima volta però sai se lì trovi il promotore che ti chiami e dice vogliamo fare un concerto di Gigi D'Alessio vuol dire che c'è interesse tipo Los Angeles l'ho già fatta due o tre volte Rio de Janeiro San Paolo Buenos Aires sarò a Buenos Aires per la prima volta faremo Miami Miami stiamo aggiungendo Cuba ci chiamano faremo un concerto anche a Cuba pensa che usar Racine è diventata una Italy faremo Cuba poi faremo Città del Messico e poi saliamo facciamo Los Angeles Las Vegas San Francisco perché a questo il disco è uscito un mese fa sono le date che ferma un mese fa poi ci sono stati degli sviluppi e quindi abbiamo anche Toronto Montreal New York Chicago porti Napoli nel mondo perché al di là della musica è un messaggio Gigi però poi alla fine porti Napoli nel mondo guarda io sono dieci anni che faccio i turni mondiali eh lo so solo che quest'anno abbiamo giunto veramente quasi tutto solo in Africa non andiamo e ti dico che pochi giorni fa è arrivata una richiesta per cantare fare un concerto davanti alle piramidi che è una bella soddisfazione hanno c'è questa agenzia che ha fatto diciamo un'offerta di artisti internazionali e tra gli internazionali diciamo la gara l'ha vinta a lui che ha presentato me è una bella soddisfazione e lì se lo farò lì lo voglio fare con la televisione così facciamo vedere cioè l'Egitto vuole rilanciare dopo tutti gli eventi che ci sono stati quindi per il turismo ci dobbiamo prendere un po' di artisti e fare dei concerti e tra i tanti artisti insomma per marzo hanno scelto me adesso dobbiamo solo cercare di incastrare la data proprio davanti alle piramidi beh straordinario una bella cosa da fare e la possiamo la 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 ma chi ti ha fatto stai attento stai attento a tal proposito tu eri in tournée in Europa anche dopo quel maledetto 13 novembre a Parigi che atmosfera si respira tu devi sapere che io sono tornato il 12 novembre anzi no io sono tornato il 13 novembre la mattina da Vienna perché ho chiuso a Vienna e dovevo cantare il 17 a Barcellona tant'è che per rispetto delle vittime insomma per tutto quello che è successo abbiamo annullato questa data che la rifaremo ad aprile ma ti dico che io avevo il concerto salvata clan e questo fa riflettere di come purtroppo oggi siamo tutti a rischio questa è la è la grande verità invece torniamo all'orgoglio Gigi D'Alessio sale sul palco per esempio a Rio de Janeiro per esempio a Los Angeles che che cos'è per te che emozioni se riesci a trasferirla in parole l'emozione che provi dentro già quando riesci a superare Caglianiello è una conquista credimi non sto scherzando già da Caglianiello quando superi preconcetti pregiudizi e riesci a fare gente veramente penso quando sono arrivato al Radio City Music Hall di New York ah beh cioè ho duettato poi con Liza Minelli Polanca Manhattan Transfer Tana Anastasia cioè per me è stata un'emozione vedere 6.000 persone che avevano pagato un bel biglietto il teatro quello lì è un teatro da 6.000 posti fare l'esaurito lì ma anche fare lo stadio olimpico per me è una soddisfazione a Torino uguale tutti i palazzetti dello sport vabbè in Italia ho fatto sai per me fare Palermo Catania è come io dico sempre è come da Napoli dalla camera da letta andare in camera da pranzo però la casa è la stessa è casa tua è come ciò che andiamo che ne so in due salotto ma quando sali veramente l'Italia per noi è così ok proprio in salita e quando vai a Trento accanto mi pare addosso a mente ho fatto ho cantato prima a Sydney e poi a Udine che è clamoroso però è sempre bello arrivare insomma io adesso per esempio quando ho visto il manifesto a Bruxelles Aznavour Bob Dylan e Gigi D'Alessio mi veniva da ridere perché sai parliamo di mostri sacri però tu vedi proprio il manifesto Gigi D'Alessio Aznavour e Bob Dylan allora tu dici io che c'è io devo chiedere un regalo devo chiedere un regalo a Gigi e uno a Simone Zaccaria che è in regia mi prenderete per matto io devo risentire Guaglione quindi facciamo così le news Gigi resti ancora 7-8 minuti le news ritorniamo con la musica di Gigi e poi dopo ritorneremo al calcio dopo le news Siamo in diretta Siamo in diretta è proprio l'orario della pizza fritta Gigi D'Alessio è pronto per la pizza fritta però insomma io ho fatto un po' il giornalista e ho detto stai ancora un attimo con noi anche perché Gigi stiamo ricevendo molti messaggi per esempio sia attraverso sms whatsapp su twitter salutiamo gli amici che ci chiedono dal Brasile e da Miami li vogliamo salutare loro hanno un ristorante si chiama Limoncello ovviamente ce lo mandi un messaggio in napoletano mandiamoglielo ma vogliono bene i pazzi tra l'altro anche su twitter mi hanno scritto in tre non è mai venuto in Brasile allora lunedì 30 maggio sarà a Rio de Janeiro e poi no scusate domenica 29 maggio a San Paolo esatto il 30 maggio a Rio de Janeiro e per gli amici del ristorante Limoncello giovedì 2 giugno sarà a Miami quindi non perdete i concerti di Gigi D'Alessio i messaggi di complimenti si sprecano ce ne sono altri che mi piacciono molto dice per me D'Alessio non è tra i miei cantanti preferiti però sapere che un mio fratello napoletano ha successo nel mondo mi rende orgoglioso Dino 81 e ancora apprezzo molto Gigi per quello che fa per la nostra città perché si vede si sente lui lo fa col cuore bravo e grazie e poi dicono Gigi ma perché non organizzi qualcosa di bello contro questi terroni che ci massacrano sempre insomma i cori razzisti ma che brumanda ma è pazzesco ragazzi eh ma il problema è questo io ho sempre detto che il calcio ci dovrebbe dividere solo per i 90 minuti ok io dico una cosa i cori razzisti a cosa servono però una cosa una cosa una cosa importante sai qual è è perché non passiamo inosservati è certo evidentemente diamo fastidio la verità è che diamo fastidio diamo tanto fastidio e devo dire che è molto molto bello anche poter parlare con Gigi della città perché sentire Gigi d'Alessio che dice io ho girato il mondo e Napoli è la città più bella del mondo forse Gigi tutti noi dovremmo stare un po' amarla di più stare insieme amarla di più e stare uniti perché se ci dividiamo non andiamo da nessuna parte gli altri riescono a emergere noi restiamo sempre lì anche perché gli altri non sono proprio contenti quando Napoli emerge quando la campagna vedi il calcio sembra quasi in eccezione quando facciamo una cosa bella tu lo sai che un professore napoletano ha scoperto come non morire di infarto e ha avuto un trafiletto così piccolo sul giornale e questo a me dà fastidio è certo fa male fa male è un napoletano insomma riesce a fare una cosa del genere i migliori medici ce li abbiamo a Napoli io sono stato il primo ad andare fuori per curare mio fratello ma perché è un errore questo qui ci sono delle eccellenze assolute straordinarie assolute allora tanti messaggi davvero tanti ti ascoltiamo da Firenze ti aspettiamo qui per il concerto Schive Giussi ho ascoltato anche prima e poi prima un nostro amico aveva scritto eccolo qua sono in Spagna stamattina sono in albergo perché è influenzato ho acceso la radio sento Gigi mi sto rimettendo e quindi è bello saluti alla mia famiglia mia moglie Gigi l'aspirina è Gigi l'aspirina caro Gigi anche a questo D'Alessio riesce oramai fai il minaccio uno stamattina un amico mio mi ha chiamato stamattina mi ha detto sei il Viagra televisivo dove vai tu si alzano gli ascolti ieri ascolti direi uno davvero un boom pazzesco caro Gigi io sono molto contento anche io sono felicissimo voi siete una radio della mia città e anche voi come me siete arrivati in Italia che ne arriviamo in Italia e per me è una bella soddisfazione sono contento vabbè io e te ci conosciamo da vent'anni io avevo un sacco di capelli in più pure io spero di rivederti presto ti ho promesso che verrò a vedere il concerto a Roma a Roma ma sicuramente 21 giugno 21 giugno per festeggiare non me perché deve essere la nostra festa la festa è la città e lì devono venire televisione, telegiornale facciamo venire tutto Gigi speriamo la bellezza di questo concerto e chissà che a maggio non sia successo qualche altra cosa bella e facciamo la festa nella festa ma che stai assodato saranno i primi ospiti d'onore i nostri amici lui ci crede io ci credo sono convinto l'ha detto dal primo momento e devo dire che infatti vivi questa intervista e Gigi è stato uno dei primi se stiamo insieme con Gigi con Alessandro Siani con l'intelligenza col sindaco con De Laurentiis con Maurizio De Giovanni le televisioni le radio i giornali se stiamo insieme il Napoli si vince esatto vince se invece Gigi fa la guerra no Gigi no perché Gigi aiuta tutti quello fa la guerra a Gigi il cabarettista fa la guerra a Siani il giornalista farà guerra a quell'altro quell'altro così vedrete che alla fine vince l'Inter vince il Milan vince la Juve vincono sempre no speriamo che chi deve capire capisce chi sta sa vince sa vince grazie Gigi buonanotte a tutti ci dobbiamo fermare andiamo a mangiare la pizza fritta ciao 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 ciao